Ti voglio rubare il microfono ma non andare via perché c'è una sorpresa perché tu hai lavorato tantissimo, io direi di fare un applauso a Marco Valletta se lo merita tutto per intero, è veramente un grande chef veramente, però come tutte le manifestazioni che si rispettano un piccolo riconoscimento tangibile come ricordo, ci deve essere allora io inviterei qua il cavaliere e anche il direttore, il mitico direttore di Degusta Gianluigi Veronesi sul mitico no perché sei ancora vivo esatto, esatto, esatto non mi fai impappinare davanti alla telecamera allora direi di dare questo premio a Marco Valletta e alla Nazionale Italiana dei Cuochi premio Excellence, lo leggo qua così lo guardate voi perché siamo particolarmente contenti e felici allora lo faccio vedere, la presidenza e il comitato esecutivo del premio Excellence sentito anche il giudizio di esperti del settore, giornalisti, professionisti del turismo, territorio, hotel, ristoranti, gastronomia, arte, cultura e istruzione conferiscono il premio Excellence alla Nazionale Italiana dei Cuochi i migliori rappresentanti del tenato al tavola grazie, grazie, grazie e adesso e adesso un grande premio anche lo diamo a Gianluigi Veronesi con Degusta che se lo merita per intero perché dovete ammettere che lo stand che ha allestito 100 metri quadri con una sala convegni la più gremita di tutta la fiera con personaggi di primissimo piano sono passati di qua ci siamo permessi giustamente dico io in rispetto dei nostri sponsor di dire alla RAI che noi non tiravamo via i nostri sponsor per fargli vedere il loro spettacolo qua siamo a casa nostra e come dice qualcuno a casa nostra siamo noi che comandiamo e gli abbiamo detto voi andate a fare i vostri servizi dove lo riterrete opportuno i nostri sponsor li ringraziamo tantissimo hanno pagato per essere qui con noi ci sostengono e non tiriamo via i loro nomi da queste cose per un ente pubblico che paghiamo pure il cane a parte questa cosa qua veniamo veniamo alla premiazione ecco allora il giornalista Gianluigi Gianluigi Veronesi è di tutto degusta per la sua inestimabile professionalità premio excellence allora adesso che ha ricevuto questo premio dovrà aumentare i canoni basta con questi soldi finiamo basta complimenti hai detto una cosa giusta io voglio ringraziare gli sponsor che vedete e anche quelli che sono stati qui con noi in questi giorni che si sono aggiunti perché hanno visto lavorare la nazionale italiana cuochi noi abbiamo cercato di fare cultura enogastronomica per il nostro grande paese e per i prodotti del nostro paese perché vogliamo tenere alta l'italianità sia nell'editoria sia nell'internet sia nei pelati sia nelle tagliatelle sia nel formaggio parmigiano reggiano nell'aceto balsamico cioè in tutto quello che è un prodotto italiano noi vogliamo tenere alta l'italianità e credo che in questi giorni qui ci siamo veramente riusciti grazie tantissimo per questo premio che non mi aspettavo siete stati veramente gentili grazie grazie mille